un saluto dagli uc65 che dire un piccolo commento su qualche collega youtuber chiamiamoli colleghi io sono diciamo un collega piccolo piccolo con pochi iscritti rispetto a certi superman che hanno migliaia di iscritti e giganti che ne hanno milioni però ho notato una cosa ho notato una cosa io critico ogni tanto il mondo youtube perché è giusto anche farlo è perché è giusto avere un'opinione libera però ho notato una cosa l'assenza del calcio e questo io già lo sapevo sta facendo venire fuori molti lati di alcune persone quindi l'essere umano non è legato per forza al calcio o a determinati schemi dover parlare della partita, dover criticare la partita, dover dare i voti alla partita ha fatto venire fuori l'intelligenza che ognuno di noi ha di portare sul suo canale altro e di essere anche bravo e quindi vedo gente che si cimenta in altri argomenti ho notato che c'è gente che parla di calcio ma sa parlare di filosofia di libri intervista a persone e mi stupisco e mi stupisco perché delle volte tu dici cazzo delle volte scendi in discussioni talmente inutili quando potresti sfruttare un po' di quello che hai per fare le cose bellissime che riesci e quindi sono contento sono contento perché ritengo che il calcio manca a tutti manca anche a me ma sta portando a galla tante risorse che noi non pensavamo di avere una di queste è il cervello qualcuno ce l'ha più fulminato tipo io qualcuno o meno tipo il mio amico Ludo o d'altri e youtube sta dando lezioni sta dando lezioni non è soltanto un contenitore un contenitore dove ci trovi anche tante cazzate ma è un contenitore a volte molto più completo del contenitore tv e quindi bravi tutti soprattutto quelli che conosco i vari Luca Totti i geni bianco Max Montana una stanza tutta per me quelli che intervengono nelle chat tipo Ludo che non hanno un canale suo che non ha un canale suo e purtroppo sbaglia perché sarebbe un grande youtuber perché ho notato una cosa riesce ad essere un mostro in tutto come cazzo fai non lo so scoprirò il tuo segreto e se usi Wikipedia Ludo sono cazzi tuoi e quindi un saluto a tutti gli youtuber che stanno dimostrando che oltre il calcio c'è di più c'era una canzone di una volta che diceva oltre le gambe c'è di più oltre le liti sul pallone o le liti sulla politica c'è molto di più ed è molto interessante un saluto da Liux65 e il frequently ogni 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 è molto interessante